analisi di fine settimana con le candele weekly vediamo un po dove eravamo rimasti la settimana scorsa il titolo era bull trap o bull market dax stocks 600 standard and poor s&p 500 e nasdaq cosa voleva dire che c'era una situazione per la quale eravamo in dubbio se i segnali rialzisti che vedevamo dovesse essere interpretati come l'inizio se non proprio di un bull market comunque di un mercato a rialzo un po più duraturo oppure se si trattava di una bull trap cioè di un segnale che doveva indurre un certo numero di operatori andare long fatto salvo che poi il mercato avrebbe ripreso il suo la sua tendenza principale che per la maggior parte degli indici come vedremo è ribassista durante la settimana abbiamo avuto ulteriori segnali di euforia con risk on no chiamato in gergo riscon cosa vuol dire quando cominciano a salire tutti gli asset speculativi il bitcoin le cosiddette meme stocks abbiamo visto coinbase prendere il 20 per 100 quindi rinvio a questi video per andare a vedere un po cos'è successo e per capire appunto che cosa vuol dire no cosa vuol dire risk on sono fasi che avevamo vissuto nel 2021 c'è stato un deja vu ecco all'inizio di questa settimana e poi in seguito abbiamo avuto segnali dal vix che ci poteva segnalare un reversal che poi in effetti è avvenuto nella giornata di mercoledì ora poi andremo a vedere e abbiamo poi giovedì quattro star bearish sul dax vediamo le conseguenze sui grafici settimanali di tutto quello che è successo questa settimana un amico poi giustamente diceva ma come fa essere come fa a salire con l'attuale situazione dice di che bull market stai parlando si bull market inteso appunto come una fase rialzista più prolungata come fa e fa dal punto di vista tecnico è possibile lo abbiamo visto ora lo vedremo fra un poco su su altri indici a cominciare dal dax questo è l'S&P 500 guardate la situazione dell'S&P 500 S&P 500 fondamentalmente è in un trading range più basso rispetto a quello dell'area di distribuzione del 2021 cioè qui un vero bear market con delle fasi prolungate impulsive e importanti non c'è ancora stato quindi qui siamo in una situazione di equilibrio per cui superamento di 4 10 dove ci sono i tre famosi pallini gialli che ho lasciato dall'altra analisi no che hanno coinciso con le giornate di pubblicazione dei cpi che sono risultati peggiori del previsto eccetera eccetera superamento di 4 10 di queste resistenze 4 10 4 250 questo le probabilità di andare verso i massimi aumentano aumentano punto di vista tecnico perché scattano ricoperture di chi ha aperto posizioni short scattano i long di chi vuole partecipare da tutti gli algoritmi che chiaramente vedono il mercato superare le resistenze poi c'è il fomo no la paura di restare fuori di chi vuole partecipare appunto alle fasi rialziste quindi sì comunque c'è una come minimo c'è qualche settimana è quello che abbiamo visto sul dow jones l'altro sono andato a vedere il dow jones è stato il primo questo è un video di novembre 11 novembre dove appunto dicevamo dow jones possibili nuovi massimi storici perché aveva fatto esattamente quello che ho appena descritto qui superamento della media a 40 periodi discendente 40 periodi perché richiama i 200 giorni superamento comunque innesco qua delle resistenze date dalla dalla shooting precedente rientro nel nel range questo era il segnale principale rientrava nel range di distribuzione 2021 e cosa è successo andiamo a vedere subito dow jones cos'è successo eccolo qua questa era la candela di novembre no che abbiamo visto nel prima nel video è salito altre tre settimane è andato a sfiorare l'ultima resistenza a 35 mila due passi dal massimo storico non tornato giù ci ha riprovato adesso nel mese di gennaio e questa settimana è tornato giù però questo succede il superamento di queste resistenze ti innesca come minimo movimento di questo tipo qua ammesso che sia finito qui è a proposito dow jones questa settimana segnale importante segnale importante perché ed è l'unico che è l'unico degli indici che ha dato un segnale quindi può darsi che sia stato il primo a salire e ora sia il primo a dare certi segnali che ora vedremo nel dettaglio allora il primo è il bearish engulfing questo è un bearish engulfing netto con apertura weekly al di sotto della chiusura della settimana precedente quindi questo pulito con chiusura al di sotto del minimo della candida della settimana precedente senza se e senza ma accompagnato da l'incrocio al ribasso dell'rsi ok quindi è un segnale bearish pulito il la conferma diciamo l'innesco quello che farà aumentare le probabilità di andare verso l'area dei minimi del 2022 è la rottura di 33 mila quindi attenzione a settimana prossima qui settimana prossima e per i giorni a seguire la rottura di 33 mila è molto molto importante per il dow jones è altro segnale è il fatto che questo il quadro la cosiddetta heat map questo è un po un compendio dei principali titoli e settori diviso per settori vedete el care comunicazioni ciclici difensivi energia eccetera queste delle semplici 500 e non non c'entra col dow jones però abbiamo delle informazioni che sono attinenti al dow jones perché questa settimana questa è la heat map della settimana scorsa vede performance a una settimana sono venuti giù gli industriali ecco perché abbiamo visto quel bel shangulfi del dow jones industriali il care le utilities sono cominciati a venire giù i gioielli di famiglia cioè il rialzo della settimana scorsa di alcuni di alcuni settori di alcuni indici ora lo vedremo fra poco in particolare il nasdaq che ha finito venerdì con più 2 7 per cento è stato dovuto al rimbalzone dei tecnologici servizi comunicazioni google più 7 apple finalmente rimbalza più 3 tesla più 8 dopo che è stata decimata nel corso delle settimane precedenti questi sono rimbalzi che erano tutti attesi ed è continuata la risalita anche di quelle meme stock perché poi appena salgono i tecnologici qui ricomincia il vecchio gioco il vecchio sport del 2021 quindi mi riferisco a quel video di cui parlavo prima quindi questo è un altro segnale importante cioè il fatto che i settori considerati difensivi per il consumer difensi protan and gamble coca cola abbiamo visto in settimana no nei video della settimana abbiamo visto le espansioni al ribasso di coca cola walmart meno 2 quindi difensivi al care difesa settore difesa dove eccolo qua aerospace and fans questi sono macchinari industriali questi sono tutti i settori che normalmente non dovrebbero cedere in un momento in un momento come questo no che dovrebbe preludere secondo la una certa lettura dei mercati a un trend rialzista quindi il dow jones può darsi sia stato il primo ecco a dare questa svolta gli altri non l'hanno data s&p 500 anche se comunque venerdì ha avuto una giornata più 1 e 8 però tutto sommato ha chiuso abbastanza alto non è riuscito a ingolfare negativamente la candela prima come il dow jones ha chiuso molto vicino ai massimi della settimana precedente quindi qua rimane aperto lo scenario e l'rsi non ha incrociato l'unico è stato l'unico è stato il dow jones lo ripeto anche l'europa stessa cosa dax nessun incrocio abbiamo giusto disegnato qui una possibile star una possibile ecco avevamo detto che durante la settimana c'era un pattern quadri star sono delle figure di frenata molto potenti del trend quindi a livello weekly si è tradotta si è tradotto quello che è successo in settimana con una figura tipo a rami con la figura della candela nera corpo piccolo vicino l'espansione precedente quindi frenata guarda caso a 15 mila che era il target che avevamo dato dopo il brusco reversal che c'è stato a sorpresa perché qua sono state due settimane che lasciavano presagire la prosecuzione verso il basso invece a sorpresa la settimana del 3 gennaio è partito come un razzo in su il dax rompendo tutte le resistenze 14 6 14 9 siamo arrivati a 15 mila questo è quello un po quindi però qui il segnale di inversione non c'è potrebbe completarsi qui la bull trap di cui abbiamo parlato il dax cos'era era mettere il naso sopra 15 mila a tentare di rientrare all'interno di questo vecchio trading range e poi tornare giù quindi attenzione settimana prossima a livello di 14 8 50 perché sotto 14 8 50 questa candela verrebbe messa in crisi quindi potremmo avere questo famoso rientro e quindi che è consolidare la bull trap questo è uno scenario l'altro è che invece come ha fatto il dow jones se qui riesce a resistere qua sopra aumentano le probabilità di andare di estendersi verso l'alto l'indice europeo un po meno sbilanciato e lo stocks 600 ma neanche tanto perché comunque anche lui è riuscito a portarsi sopra la media 40 solo che siamo ancora all'interno del trading range presente non è riuscito a entrare nel vecchio no come ha fatto il dax quindi è stato respinto da 4 60 questa candeletta è già più netta perché ha la forma di shooting e cosa vuol dire shooting vuol dire che durante la settimana questa a un certo punto era una candela gialla e abbiamo finito con colore nero quindi andando a rimangiarsi praticamente tutto il cammino fatto e finendo quasi invariato rispetto alla settimana precedente il fuzzimib al volo per gli amici che lo seguono stessa situazione del dax siamo proprio lì al limite 25 e 8 e veniamo al nasdaq il nasdaq finisce bene il compito questo più 27 perché poi chiaramente avendo tanti titoli molto volatili che ti sparano più 7 più 8 per cento come niente in un giorno è chiaro che anche l'indice ne risente però guardate come la situazione nasdaq rimane comunque il peggiore non ha ingaggiato nulla nemmeno le prime resistenze per il momento ed è bene al di sotto della media a 40 quindi non fatevi impressionare le percentuali il vix meno 3 finisce meno 3 grazie appunto a questo spunto di ricopertura di venerdì sera che tra l'altro venerdì è la giornata di scadenze tecniche e 15 adesso vediamo da lunedì continuate a seguire perché stasettimana molto importante c'è l'uscita di un sacco di trimestrali importanti tra cui microsoft il vix incrocia verso l'alto le rsi e qua da questo segnale di reversa al che è molto più netto sul v stocks che fa il bullish engulfing fa un'intersezione molto netta cosa vuol dire che risale che potrebbe risalire la volatilità e che appunto si potrebbero aprire spazi al ribasso normalmente con l'aumento di volatilità coincide con espansioni verso il basso questo si scontra per il momento con sentiment del mercato però allo stesso tempo da spazio è perché qui qua sono ancora tutti ottimisti qui sono ancora tutti belli allegri grid cioè ci sono tanti che ci credono in questo momento a rialzo per questo voglio dire da un punto di vista tecnico dobbiamo tenere la mente aperta non escludere nulla perché al di là dei fondamentali al di là dice ma i tassi sono saliti questi sono i rendimenti decennali economia sì tutto quello che vogliamo ma poi noi facciamo analisi tecnica qua no cioè poi i discorsi altri discorsi poi li facciamo magari in video dedicati sui blog rendimenti decennali e 3 5 mica cioè ci aveva dato il segnale di rottura sul daily fine settimana 3 48 se ne torna su lì qui c'è non qua non è ancora detta l'ultima vogliamo vedere questo il rsi il segnale ce l'ha dato e lo sta mantenendo ma questo 3 5 anche a livello weekly ci deve far vedere che lo rompe guardate come ci sta battendo ormai 12345 se la sesta settimana quindi è debole questo supporto è debole 1 e 8 invece più lontano per il rendimenti del decennale tedeschi siamo lontani tenete presente che l'12 febbraio abbiamo le riunioni a banche centrali quindi da lunedì scatta il blackout il silenzio delle dichiarazioni da parte di tutti i membri dei board delle banche centrali perché prima degli incontri c'è il silenzio stampa quindi le ultime dichiarazioni le hanno fatte però adesso andiamo questi secondo me i rendimenti resteranno appesi fino ai primi di febbraio quando avremo le due riunioni delle banche centrali il primo e il primo febbraio e il 2 febbraio quindi fine settimana il prossimo importantissimo per le riunioni mestrali e poi abbiamo le banche centrali continuate a seguire perché qua ne vedremo delle belle euro dollaro continua a rampicarsi verso l'alto vediamo se riuscirà a raggiungere questo 1 e 11 però questa candeletta di questa settimana qua siamo in zona di eccesso occhio qui perché se ci va a incrociare verso il basso ci fa il doppio un massimo relativo con divergenza qua delle rese in pazzo alla volta comunque prudenza sulle posizioni long perché questo è strecciato io tra l'altro me l'aspetterei l'avevamo visto prima questo è il dollar index un supporto molto forte 101 e 503 resterei veramente sorpreso se riuscisse andasse verso il basso lo ritengo meno probabile certezze non ne abbiamo meno probabile significa che al 20 per cento questo qua secondo me c'è il 20 per cento di probabilità di rompere ma ce le ha non è impossibile ok quindi io mi essere atteso un ritest della media 40 primo poi anche qua siamo in zona d'ercesso quindi da seguire attenzione alle posizioni sull'euro è quindi quello sicuramente il tempo vola quindi un'occhiata veloce alle commodities il segnale preziosi il segnale principale ce lo dà l'argento che fa l'ennesimo hanging man affiancato a quella settimana precedente ma qua incrocia verso il basso quindi attenzione perché 24 e 5 a me dà la sensazione che per il momento ha difficoltà a superarlo anche qua è lo scenario meno probabile superamento di 24 e 5 nell'immediato questo ha bisogno di andare a ricaricare e di conseguenza guardiamo con sospetto anche questo questa star su loro perché se l'argento scende loro che sale è raro visto raramente anche questo è strecciatissimo ha incrociato quasi a con angolo retto la il la media 40 e quindi uno storno sarebbe nell'ordine delle cose anche per loro stessa situazione per il rame poco di sopra di 4 e 1 attenzione anche ai possibili rimbalzi del gas ttf oggi oggi questa settimana a merino importante su 65 che era il target raggiunto ci sta ballando più 10 per cento ci sono segnali di possibile reversal ci sono possibili segnali possibili reversal anche sul petrolio l'rsi si sta arrampicando verso l'alto anche se i prezzi non riescono a rompere per il momento 82 però questa è un'altra situazione tecnica dove questa è una molla se c'è la rottura verso l'alto possiamo andare a vedere la media 40 certo perché no 90 92 e quindi rompere il canale per cui poi dopo ridisegniamo vediamo un altro scenario quindi queste sono un po le novità della settimana abbiamo pochi minuti giusto per fare un escursus appunto di quello che vi dicevo dei titoli principali quelli cosiddetti defense principali quei cosiddetti difensivi di cui abbiamo parlato prima questo è kellogg che abbiamo visto anche nel corso della settimana rottura netta della media 40 espansione verso il basso questo è un segnale un segnale da tenere presente facciamo un escursus un po dei una carrellata di titoli principali protter and gamble nettissima espansione verso il basso anche qui titoli johnson e johnson stessa cosa due settimane di fila rsi a picco home depo home depo che è considerato un difensivo un difensivo bearish and golfing con doppio top con questa mega shooting del 12 dicembre con divergenze negative dell'rsi questi sono segnali tutti tutti bearish goldman sachs che ha pubblicato i dati questa settimana bearish and golfing con apertura gap a ribasso la settimana prima tanti incroci negativi su titoli importanti berkshire hathaway warren buffett stessa situazione molto simile a goldman sachs tra l'altro berkshire che è molto carico di titoli del settore finanziario quindi non c'è da meravigliarsi però stessa configurazione finiamo con coca cola che si che anche questo lo avevamo visto anche qui due settimane di ribasso incroci sono tutte situazioni molto simili questi sono titoli considerati gioielli di famiglia tra virgolette non vedete siamo ancora vicinissimi ai massimi questa è tutta roba che nel 2022 sono capitali che sono confluiti in uscita dagli asset più speculativi sono andati non hanno mai lasciato il mercato azionario c'è stata rotazione quindi se si esce anche da qui no puntini puntini stiamo a vedere molto bene grazie per il supporto ai canali grazie per i commenti continuate a lasciare commenti se avete obiezioni o comunque aggiungere elementi da mettere a conoscenza anche gli altri amici lasciateli pure in basso nei commenti iscrivetevi perché l'iscrizione è importante per supportare i canali e vi ringrazio per l'attenzione appuntamento a lunedì non perdetevi i prossimi video molto molto importanti buon fine settimana a tutti